Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e sono qui per commentare le nomination agli Oscar che sono state annunciate ieri, 22 gennaio. Ieri rispetto a quando sto registrando il video, visto che è il 23 sera, voi sicuramente lo vedrete il 24, il 25, ma penso già il 24, di riuscire a pubblicarlo. Comunque, appunto, nomination per la 91esima edizione degli Oscar. Quindi sì, prima o poi farò sicuramente botto adesso il fatto che io sono Travatar91 e questa è l'edizione numero 91. Sono simpatico? No, forse no. Comunque, a parte questo, un'edizione che si preannuncia abbastanza problematica perché, lo sapete, non ci sarà un vero e proprio conduttore. Le ultime due edizioni sono state condotte da Jimmy Kimmel, edizioni con una conduzione sicuramente memorabile per quanto non era memorabile. Soprattutto in quella scorsa, lo dissi anche quando commentai i premi vincitori, si vedeva palesamente che Jimmy Kimmel non ce l'aveva voglia dopo la disastrosa 89esima edizione con la famosa busta sbagliata nel finale che ha popolato i miei incubi per i mesi a venire. Io ero veramente sconvolto da quella roba assurda. Comunque, quelle conduzioni appunto erano abbastanza anonime. Quest'anno doveva subentrare Kevin Hart, che la maggior parte di voi, penso, ricorderà per essere stato in Jumanji benvenuti nella giungla. Lui era l'avatar di colore all'interno nel videogioco, ovvero quello meno divertente, perché se Dwayne Johnson, Karen Gillian e Jack Black avevano tutti delle battute niente male, veramente Kevin Hart era quello che appunto faceva meno ridere. Non aiutava il doppiaggio di Nani Baldini, che a me piace molto, ma insomma non lo valorizzava granché, non era una ruola che valorizzava granché il doppiatore. Quindi, niente. Però che è successo? Tipo il giorno dopo la comunità LGBT esplosa, perché lui su Twitter aveva scritto dei tweet molto velenosi contro gli omosessuali. Molti hanno fatto il paragone con James Gunn, ma io non sono molto d'accordo, perché James Gunn è stato uno stronzo che a un certo punto è andato a cercarsi i tweet vecchissimi. Qui praticamente il giorno dopo l'avevano già denunciato, quindi vuol dire che questa è una faida che si protrae da un po'. E in più, se quelle di James Gunn erano tweet orribili, di gusto veramente brutto, ma potevi capire che erano battute, quel poco che ho letto di Kevin Hart sono proprio dichiarazioni omofobe, quindi l'incazzatura è già un po' più comprensibile. Evidentemente c'era la paura che in questo clima di politica, comunque negli Oscar si sono spesso fatte battute politiche, loro tenevano battute politiche contro di loro e non l'hanno voluto permettere. Comunque ora la paura che se ti cani della conduzione, qualcuno su Twitter ti sgami, c'era e quindi niente, sembra che non ci saranno conduttori. Il che in realtà potrebbe essere meno male di quello che sembra, come ho detto, le due conduzioni di Jimmy Kim e soprattutto la seconda erano memorabili, per quanto erano poco memorabili, quella prima di Chris Rock, madonna santissima, quella in cui si parlava degli Oscar So White, tutta la sua conduzione così lo voleva uccidere, quindi insomma forse dopo delle conduzioni così sotto tono, forse sarebbe meglio provare, magari riesce anche a snellire un po' la cerimonia e a renderla meno pesante, visto che c'era sta paura negli Oscar, vediamo un po', poi pare che vogliono appunto chiamare i vari cast dei vari Avengers e quindi perché no, potrebbero effettivamente leggerli, alternandosi un po', facendo ognuno la propria parte, potrebbe risultare una cosa carina, crociamo le dita, magari poi viene fuori una porcata, sia chiaro, io non sto dando nulla per scontato, però dai, diamogli una chance, valuteremo se sarà una buona, cioè diciamo, questo è l'esperimento, o meglio, è successo già che non avessero un conduttore unico, ma erano anni e anni che non succedeva più, quindi questo è un esperimento di ritorno appunto al passato, vediamo un po' se funziona bene, se non funziona l'anno prossimo, organizziamoci meglio. Ma tralasciamo queste piccolezze e parliamo appunto delle nomination. Ora, io di solito, lo sapete, mi piace mettere qualche immagine nei video, nel caso delle nomination, al massimo mettevo quelli che erano i miei pronostici, però in periodo in cui sono un po' impegnato e insomma montarle mi porterebbe via un po' di tempo, quindi temo che purtroppo ce le dovremmo sognare, però tanto la maggior parte dei film è comunque più o meno conosciuta, quindi non dovrebbe essere un grande problema, però mi dispiace perché di solito a me piace metterle, sapete no, mi piace dare un un aggancio visivo, ecco. Ora, altra cosa, quelle che io farò così, leggerò le nomination e poi dirò chi potrebbe vincere, chi spero che vincano, che non sono certo il primo che lo fa, non sono niente di innovativo in questo senso. Però salterò allora, quelli dedicati a cortometraggi e documentari, perché non ho visto nessuno dei candidati, non avrebbe senso parlarne, quindi parlerò di 20 categorie anziché le 24 degli Oscar totali. Quindi detto questo si parte, partirò ovviamente dai primi tecnici e poi andrò a quelli più succosi verso la fine. Allora, 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 si parte con, almeno dalla pagina che sto usando io, che è quella di BetTaste, che è il sito che segue di più, vabbè, qui loro, io vado dal basso verso l'alto, qui iniziano, le ultime sono le sceneggiature, ma le sceneggiature le voglio lasciare dopo, quindi, prima categoria visiva partendo dal basso verso l'alto nella loro pagina, migliori effetti visivi. Ok, allora, hanno candidato Avengers Infinity War, Ritorno al Bosco dei Cento Acri, infine Winnie the Pooh, Forstman, infine Damien Chazelle su Neil Armstrong, Ready Player One di Spielberg e Solo e Star Wars Story. Ora, piccola paratese prima di parlare dei candidati, questa è stata un'edizione in cui le nomination sono dominate tra gli altri da Black Panther, che ne ha ottenute ben sette, non è quello che ne ha ottenute di più, però insomma è un numero considerevole, però appunto in molte categorie tecniche però non lo ritroviamo negli effetti visivi e meno male perché effettivamente gli effetti visivi di Black Panther in alcuni punti erano fatti bene, in altri sembrano le cutscene di un videogioco. Dopo la prima visione gli amici con cui era andato me lo dicevano e loro dicevano ma no dai non mi è sembrato, l'ho rivisto una seconda volta, sì purtroppo devo ammetterlo ero stato troppo buono da quel punto di vista gli effetti visivi non sono un gran che. Quindi anche qui comunque chi dice eh si becca tutte le nomination a prescindere perché c'è il cast di colore c'è ne uno in cui l'hanno escluso in cui effettivamente non andava incluso quindi comunque non è che c'è proprio zero obiettività come qualcuno ti vuole far passare. Parlando delle nomination in sé e in molti direi forse a molti la cosa più spontanea che avrebbe da dire è Infinity War è un film molto amato gli effetti visivi sono in generale molti apprezzati si sono sprecate le lodi per Thanos sinceramente no secondo me quello che ha più possibilità di vincere è Forstman perché se guardate capita spesso che l'Academy premi film che non ostentino troppo l'effetto speciale ma lo confondano nel senso che se tu fai un film con un mostro un robot un alieno cose del genere la creatura in sé è palesamente un effetto speciale perché ovvio che se tu vedi King Kong sai che King Kong non c'è sullo schermo per dirmi una severità sai che quello non c'è davvero lì perché un coso viola pelato di tre metri non esiste e quindi comunque tu un minimo mentalmente lo riconosci invece un film come Forstman in cui sono tutte cose che esistono nella vita vera anzi qui si parla di un qualcosa ispirato a un fatto realmente accaduto riesci a roscondere di più e quindi l'Academy ti premia penso solo a Vita di P che ha vinto cioè è un film in cui l'effetto speciale più presente è una tigre quindi un animale che esiste davvero quindi appunto parti pensare che un animale non reale sia reale ma un animale che tu vedi tutti i giorni quindi hai più il collegamento mentale quindi o anche che so Inception in cui siamo in un mondo da sogni ma non è che ci sono mostri o cose strane ci sono giochi prospettici per paesaggi che si muovono ma non c'è niente di iper esagerato appunto come mostri o cose del genere quindi secondo me ha più probabilità di vincere Forstman se dipendesse da me però infatti spero che magari mi smentiscono e vince questo io farei vincere Ready Player One per la scena della seconda prova perché spoiler per chi non ha visto Ready Player One c'è la scena di Shining in cui entrano in Shining per me è un gioiello cioè veramente tu vedi proprio dei personaggi che sono palesamente personaggi di una simulazione virtuale che entrano nel set di Shining ricreato col digitale ma che sembra il set in live action curato nei minimi dettagli cioè la scena in cui il personaggio viene investito dalla colata di fango che è uguale cioè ma è stupenda non hanno costruito niente hanno giusto messo un paio di impalchiature ma sopra è tutto digitale e non sembra minimamente poi con la stessa grana per sembrare un film degli anni 80 cioè per me quell'effetto speciale lì è unico è stupendo la mia scena preferita di Ready Player One e sebbene io nel suo insieme ritenga Infinity War superiore a Ready Player One perché Ready Player One scriccoli in alcuni punti della sceneggiatura a livello proprio di scena Ready Player One è una scena migliore una delle scene migliori del 2018 quella di Shining quindi io spero vivamente che vinca Ready Player One e già che ci siamo va visto che sia parte di effetti visivi parliamo di effetti un po' più pratici ovvero trucco e parrucco Border Maria Regina di Scozia e Vice L'Uomo nell'Ombra io ho visto solo quest'ultimo Vice bello tra l'altro mi è piaciuto ve lo consiglio e allora appunto non posso confermare però Vice è la storia del vicepresidente degli Stati Uniti durante la presidenza di George W. Bush Bush Junior per intenderci che è interpretato da Christian Bale che qui appunto è ingrassato ma non sono andato a guardare ma credo che sia trucco in questo caso perché Christian Bale è il noto trasformista ma si era procurato un'ernia per American Astle quindi credo che qui sia stato truccato e se ci pensate bene questa cosa ricorda un po' Gary Oldman con l'ora più buia anche lì vinse il miglior trucco perché la performance di Gary Oldman nel ruolo di Churchill in quel film era molto aiutata dal trucco quindi ci sono buone probabilità che li succeda ovviamente non posso dirlo con certezza perché è l'unico che ho visto ma secondo me se guardiamo al passato ci sono buone probabilità e già che si parla di trucco facciamo anche i migliori costumi qui abbiamo cinque candidati la ballata di Buster Scruggs l'ultimo film del coin presentato a Venezia e presente su Netflix Black Panther La Favorita altro film presentato a Venezia che esce giusto domani rispetto a quando sto registrando il video oggi per quando lo starete vedendo che è il mio film preferito di quelli che hanno che erano in concorso a Venezia che io ho visto al festival quindi consigliatissimo assolutamente poi il ritorno di Mary Poppins questa è una visione di presentazioni e Maria Regina di Scozia che appunto è qui ispirata a una storia vera su una diatriba monarchica qua si fa difficile perché appunto qui non c'è la questione di costumi che si confondono cioè nel senso come ho detto prima no qui sono tutti costumi che per un motivo per l'altro per virgolette danno sfogio tipo Black Panther sei in una civiltà africana che non esiste quindi fantascientifica Maria Regina di Scozia e la favorita sono costumi sontuosi perché siamo in piena in monarchia la ballata di Buster Scruggs è un western quindi comunque noti che sono costumi d'altri tempi il ritorno di Mary Poppins comunque abbiamo appunto i costumi di Mary Poppins tutti quelli che cambiano quindi boh si fa difficile potrebbero premiare Black Panther secondo me non è da escludere boh diciamo che visto che il film che ho preferito di questi è la favorita potrei dire come potrei votare quello a livello di preferenza personale appunto perché per chi ti fa appunto perché mi è piaciuto il film e ti fa per quello parlando appunto di chi vincerà boh difficile a dirsi chissà che non decidano di tirare in ballo i coin boh su questo sono un po' indeciso ditemi voi se secondo voi ce n'è qualcuno che ha più possibilità degli altri di vincere poi dopo i costumi allarghiamoci un po' e facciamo direttamente la scenografia meglio scenografia abbiamo nominato ben tre tra l'altro della categoria precedente infatti abbiamo black panther la favorita with force men il ritorno di mary poppins e roma allora lì sul momento uno potrebbe dire magari appunto la favorita per l'ambientazione storica o black panther se decidono di premiare un po' la creatività essendo un cinecomic che si è dovuto inventare una città uno stato fittizio che a molti non è piaciuto però vabbè con un altro discorso io qui lo dico mi sa che vince Roma perché comunque il rendere in quel modo il messico di quel periodo tra l'altro Roma ricordiamo lo film che ha vinto il leone d'oro a Venezia ed è un film prodotto da Netflix ed è anche uno dei più nominati se non sbaglio quindi insomma niente male secondo me premio per le migliori scenografie lo vince Roma e chiudiamo la parte tecnica visiva con la miglior fotografia allora qui abbiamo Cold War la favorita Opera senza autore Roma e Star is Born eccolo lì tiriamo in ballo anche Star is Born film anche questo presentato a Venezia ma fuori concorso vabbè non c'è bisogno di presentazioni allora qui ne ho visti 3 su 5 perché Opera senza autore era in concorso a Venezia ma quello me lo sono perso e Cold War allora io che ho luci vicino a casa mia so che lo fanno lunedì alle 9 perché fanno tipo la segna cinema dei sai a soli 5 euro quindi per chi di voi ha un luci vicino ne può approfittare lunedì se è curioso di vederselo comunque dei 3 che ho visto qui dico come migliori scenografie qui vince Roma secondo me qui proprio non c'è neanche da discutere ne ha già la vittoria in tasca fotografie bianco e nero poi c'è stata tutta la questione che ha sfruttato il formato in maniera particolare un formato che funzionerebbe cioè è un film che funziona meglio sul grande schermo e quindi purtroppo qui Netflix mettendolo ma non enormemente ha un po' sbagliato e staremo a vedere cioè nel senso mi spiace un po' per Netflix comunque no secondo me fotografia c'è poco da dire vincerò ma mi stupirò enormemente se vincerà qualcun altro e adesso passiamo ai premi tecnici per il sonoro iniziamo con in realtà uno che non è tantissimo tecnico ovvero la canzone originale allora abbiamo candidato All The Stars canzone presente in Black Panther I'll Fight presente in RBG questo sinceramente non lo conosco devo controllare The Place Where Lost Things Go da Il Ritorno di Mary Poppins Shallow da A Star Is Born e When A Cowboy Trades Is Spurs For Wings da La Ballata di Buster Scruggs qui abbastanza scontato Shallow è stata la canzone forse più amata dell'anno poi tra l'altro un film come Black Panther che è appunto un film musicale eh sì Black Panther scusatemi come Star Is Born che è un film musicale se non vince quello per la canzone fa un po' ridere sì ok di film musicale c'è anche Il Ritorno di Mary Poppins ma delle canzoni scialbissime l'ho anche sentita in originale non so neanche che canzone sia questa un paio di idee ma vabbè me ne frega veramente poco sarebbe carino se vincesse quella della ballata di Buster Scruggs perché per chi non l'avesse visto è un film a episodi e ogni episodio scimmiotta un particolare genere c'è tipo l'ultimo episodio che è molto horror in particolare ispirato a un film horror in particolare se volete sapere quali scrivetemelo nei commenti e poi c'è il primissimo che è la ballata di Buster Scruggs che è un musical quindi sarebbe divertente un western musical che vince l'Oscar ma no vince Shallow ha già la vittoria in tasca aveva già la vittoria in tasca nel momento in cui è uscito qui sinceramente non ci sono dubbi poi invece adesso andiamo nelle tecniche per davvero miglior suono o miglior missaggio audio dipende un po' da come viene chiamato abbiamo Black Panther Bohemian Rhapsody Forst Man Roma e Star is Born allora mi manca Bohemian Rhapsody di questi mi verrebbe da dire Forst Man perché è un film che essendo parlando anche di viaggi parlando di viaggi nello spazio gioca molto anche con i silenzi quindi è quello che mi sembra un po' più probabile potrebbero anche premiare Star is Born essendo un film ambientato nel mondo discografico credo che sia uno di questi due Forst Man o Star is Born o appunto anche Bohemian Rhapsody perché anche quello è un film ambientato nel mondo musicale però non avendolo visto secondo me è uno degli altri due che ho detto poi miglior montaggio sonoro abbiamo gli stessi di prima con una sola differenza al posto di Star is Born c'è A Quiet Place gli altri quattro sono sempre Black Panther Bohemian Rhapsody Forst Man e Roma qui per lo stesso discorso che ho detto prima appunto per il fatto che si mischino anche i silenzi potrebbero essere o Forst Man o qui anche A Quiet Place perché anche A Quiet Place è un film che giocava appunto sul non far rumore e tutto quindi chissà che A Quiet Place non gliela sottragga in volata non penso perché con gli horror si sa che non è un genere che l'Academy si fila molto certo abbiamo assistito l'anno scorso alla vittoria della migliosceneggiatura per Get Out e comunque miglior film La Forma dell'Acqua che non era proprio un horror ma era comunque un film fantastico e di genere però c'era la questione delle tematiche razziali che aiutava un po' qui invece ok né A Quiet Place né Forst Man hanno la tematica razziale però Forst Man col suo essere un film storico è una cosa che interessa spesso all'Academy quindi potrebbe essere mi sa Forst Man ma adorerei se vincessi A Quiet Place e infine per le categorie sonore miglior colonna sonora Black Panther Black Clansman Se la strada potesse parlare L'isola dei cani e Il ritorno di Mary Poppins non ho visto se la strada potesse parlare non ho capito se è già uscito o meno comunque un film da regista di Moonlight ma mi pare deve uscire in questi giorni ma non so vediamo un po' se riuscirò a vederlo degli altri devo dire che qui su due piedi mi viene a tifare per l'isola dei cani sinceramente ora passiamo a una categoria più compositiva diciamo ovvero il montaggio abbiamo candidati Black Clansman Bohemia Rhapsody La Favorita Green Book e Vice L'Uomo nell'Ombra me ne mancano due Green Book e Bohemia Rhapsody Green Book mi pare che esca il 31 se non sbaglio cazzo il 31 devo anche andare a vedere Dragon Trainer che ve lo vedo appena esce e il primo re pure questo dovrei vedermi che parla diciamo allora basandomi su quelli che ho visto Vice ho idea che potrebbe vincere Vice perché è un film che è uno di quei film che ti dà magari pezzi saltella un po' da passato a futuro mette questa figura che è la voce narrante che non capisce che personaggio sia che non lo abbia fino alla fine quindi questo suo giocare con gli spettatori appunto sfidarli a rimettere insieme i pezzi credo che potrebbe farlo vincere sì tra questi io direi Vice e con questo passiamo alle categorie dedicate a film più specifici nel senso miglior film straniero Capernaum per il Libano Cold War per la Polonia Opera senza autore per la Germania Roma per il Messico e un affare di famiglia per il Giappone ho visto solo Roma ma è abbastanza probabile che vincca lui il motivo beh potreste intuirlo voi che sapete già delle altre nomination comunque ne discutiamo ne discuteremo in un certo punto comunque qui ve lo dico vincere Roma sicuro miglior film di animazione e se con quelli strani è stata facile qui abbiamo delle belle gattine da pelare o tra l'altro qui li ho visti tutti allora abbiamo Gli Incredibili 2 L'Isola dei Cani Mirai che è un film giapponese che non è uscito per tre giorni tra l'altro me lo sono visto in una mini doppietta con un amico che ci siamo fatti in un'unica serata questo è Halloween quando l'hanno riproposto al cinema seratona e parla di questo bambino che tipo ha quattro anni se non ricordo male gli nasce una sorellina piccola che è la Mirai del titolo e lui poi per una serie di cose fa avanti e indietro nel tempo e conosce tipo la sorellina da grande il nonno tipo quando è giovane e da lì imparerà varie lezioni poi oltre ho detto appunto i Credibili 2 Isola dei Cani Mirai Ralf spacca internet e Spider-Man un nuovo universo Ralf spacca internet a me non è piaciuto e mi fa abbastanza ridere che io quando non vinse l'Oscar il primo Ralf spacca tutto in favore di Ribelle The Brave ci rimasi abbastanza di cacchina qui se dovesse vincere mi incazzerei a morte perché secondo me è il peggiore di questi quattro senza sé e senza ma tra l'altro ho parlato prima di Mirai non vince sicuro è il classico film non americano che mettono di solito mettono sempre un film americano un film europeo che poi non vince mai e spesso e volentieri è quello più meritevole penso solo a La storia della principessa splendente La canzone del mare un altro film dello studio si alza il vento insomma tutti i film che poi non vissero mai perché come viene detto purtroppo dei molti delle molti votanti degli Oscar ci sono quelli che non ci sono neanche guardati tutti i film e quindi niente sono fregati paradossalmente è meglio tipo Venezia avere pochi giudici che però almeno sei sicuro che i film se li vedano tutti quindi insomma il fatto che votino in tanti è anche una cosa sfavore perché magari qualcuno si vede solo un film e vota quello quindi insomma ci sono pro e contro nell'avere tanti voti allora qui è abbastanza probabile che vinca Spider-Man un nuovo universo perché sta acquisendo premi in lungo e in largo e poi sai un cinecomic che vince un Oscar anche se nel campo dell'animazione non sarebbe la prima volta perché abbiamo gli Incredibili 2 già il primo gli Incredibili lo vinse però sapete gli Incredibili era un unicum non c'era ancora il genere cinecomic adesso che invece i cinecomic sono molto diffusi e sono guardati con molto amore da alcuni e con un incredibile astio dagli altri fare appunto vincere un cinecomic magari sai può essere un modo per smuovere un po' le acque o far incazzare ancora di più la gente dipende miglior sceneggiatura adattata abbiamo La Ballata di Buster Scrax Black Clansman Copia Originale Se la strada potesse parlare e Star is Born Copia Originale non ce l'ho presente un secondo che devo controllare nel frattempo mentre cerco allora vediamo un po' parlando delle altre bah devo dire che non lo so nel senso che La Ballata di Buster Scrax ha vinto anche a Venezia il primo per la sceneggiatura e per me non se lo meritava c'era un film che è uscito un film francese WV che è da noi uscito recentemente con il bellissimo titolo gioco di coppia gioco di coppia o di coppia non mi ricordo comunque Indipendente Vette ma andate a cagare che titolo di merda è e comunque a parte questo cioè la ballata di Buster Scrax bello ma i coin hanno saputo fare di meglio più che altro che essendo un film episodio ce ne sono alcuni scritti meglio di altri e quindi cioè non lo so la sceneggiatura in totale non mi convince granché Star is Born ok bella sceneggiatura cioè nel senso scritta bene non ci sono chissà quali mi pare ci siano buconi esagerati ma addirittura candidato considerando il fatto che l'impalcatura della storia ce l'avevi già perché avevi tre film prima ma per carità ha saputo aggiungere anche cose personali ci mancherebbe altro però cioè di questi quello scritto meglio direi che è Black Clansman a meno di quelli che ho visto io appunto coppia originale cos'è dopo essere caduta in disgrazie la biografa Al Israel decide di contraffare delle lettere di scrittore celebrità decedute per pagare l'affitto come idea non è neanche male cioè è molto figa come quando è arrivato ah da noi arriva il 28 febbraio cioè grazie grazie questo anche volendo non potrei neanche giudicarlo se dovesse vincere agli oscar perché da noi esce dopo o meno ora so anche perché non lo conoscevo comunque parlando degli altri se la strada potesse parlare appunto è di Barry Jenkins che ha già vinto per Moonlight anche la sceneggiatura Moonlight aveva vinto quindi chissà che non faccia il bis però sinceramente io di quelli che ho visto l'ho già detto Black Clansman tutta la vita e tra parentesi appunto ah Black Panther ruba tutto per me pure Starry's Bone ruba un po' dalla sceneggiatura adattata adesso tutti guardano solo Black Panther ma non è l'unica cosa che secondo me puoi dire potevano nominare altri quindi dai non scherziamo per la sceneggiatura originale invece abbiamo La Favorita First Reformed film che è stato presentato a Venezia ma non alla 75esima edizione alla 74esima l'ultimo film di Paul Schrader il regista di American Gigolo e sceneggiatore di Taxi Driver proprio l'ultimo arrivato insomma che però negli ultimi anni non era stato molto amato questo è uno dei suoi film più amati chissà che faccia di nerda anche visto che il collezionista di ombre l'ha citato in un paio di live a me sinceramente non ha fatto impazzire cioè bella la prima parte ma poi degrada in una morale ecologista che mi sembrava c'entrasse granché poi ha una scena con un green screen che potrà anche avere un contenuto un po' mistico diciamo di trascendenza ecco perché ne ho fissuto la trascendenza ma quel green screen a livello tecnico è veramente una roba orribile comunque dicevo La Favorita First Reformed Green Book appunto Roma e Vice l'uomo nell'ombra allora Roma non lo so cioè Roma è praticamente un Amarcord è l'Amarcord messicano Amarcord del film di Federico Fellini Amarcord vuol dire mi ricordo in cui lui ci racconta appunto la vita nel suo paese però esagerandolo un po' ci sono tutti avvenimenti che lui prende trasforma in un numero da circo che è quello che Fellini ha sempre fatto quindi era una cosa vera Roma è simile ma senza tutta la parte circense cioè racconta di una Alfonso Cuaron racconta di una famiglia simile alla sua quindi chissà che appunto il ricordo di Roma non lo cioè il ricordo di Amarcord non lo favorisca però i più papabili mi sembrano Vice e La Favorita non lo so cioè Vice diciamo che come stile mi ricorda un po' la grande scommessa infatti il film è dello stesso regista anche lì è un film che gioca molto sulle aspettative un film che ti dice esplicitamente magari quando violerà certe regole narrative tipo in una grande scommessa ti dicevano adesso questa star vi spiegherà questa cosa in maniera del tutto decontestualizzata dal film che però enunciandola diventa contestualizzata nel film qui Vice fa cose simili e quindi magari potrebbero premiare quello però sinceramente è un tipo per la favorita dai io dico la favorita spero veramente che vinca quello perché è un film che è femminista però non fa apparire le donne bene c'è un film che è femminista non nel senso che ti dice le donne sono belle e brave ma un film femminista nel senso che ti dice le donne sanno essere stronze affamate di potere esattamente quanto gli uomini quindi è femminista nell'altro senso la cosa mi piace molto è un modo non banale di trattare la tematica appunto del me too e del e del femminismo quindi spero davvero vinca la favorita e ora le quattro categorie dedicate agli attori miglior attrice non protagonista Amy Adams per Vice in cui fa la moglie del vicepresidente Marina de Tavira per Roma per inciso per chi non ha visto Roma questa famiglia è composta da abbiamo la madre con i quattro figli c'è anche il padre ma a un certo punto spoiler se ne va è stata prevedibile e poi c'è la governante questa attrice Marina de Tavira è la madre di questi no di questi cos'erano quattro figli sì scusate mi ho visto qualche mese fa molto bello ma non ricordo i dettagli per filo per segno comunque lei è appunto la madre infatti è la coprotagonista la vera protagonista è la badante cioè la tata la domestica e quindi appunto Marina de Tavira Regina King di se la strada potesse parlare questo appunto non l'ho visto e due nomination per la favorita Emma Stone e Rachel Weisz che fa un po' ridere perché la favorita è la storia di queste due donne interpretate da Emma Stone e Rachel Weisz che si contendono il posto di favorita appunto il titolo della regina di Inghilterra quindi come si contendono qualcosa nel film se lo contendono anche qui anche se con altre tre persone e in più qui non possono fare granché per influenzare la scelta mentre nel film si fanno le peggio cose fanno e si fanno le peggio cose pur di ottenere il favorito della regina è una roba veramente surreale e cinica e stronzissima e appunto ve lo consiglio che andatevi a vederlo in sala allora 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 io sinceramente voterei Amy Adams perché sta povera Crista è Leonardo DiCaprio al femminile l'hanno già nominata tipo 5 o 6 volte non l'hanno cagata l'hanno ancora fatto Animali Notturni a Rival almeno uno dei due nomina e niente per favore questa è anche brava fatela vincere basta per favore per dire ma sto nella Ciovese hanno entrambi già vinto chissà o che non decidono di premiare quella di Roma non lo so sinceramente io comunque tifo per Amy Adams dai io dico Amy Adams vai Amy tifo per te che già poi poverina ha dovuto sopportare l'agonia di essere la più brutta Lois Lane mai vista a causa di quelle delle porcherie del DCS di Universe quindi dai diamole sto risolleviamola moralmente con un bello scarino che se lo merita anche con una trice bravissima il miglior attore non protagonista invece abbiamo Marshall Ali per Green Book Adam Driver per Black Clansman Sam Elliot per Star is Born Richard D. Grant per copia originale e Sam Rockwell per Vice allora a parte copia originale che non ho visto no vabbè non ho visto neanche Green Book però lì so il ruolo Green Book se avete visto i trailer è la storia di quest'uomo interpretato da Viggo Mortensen che deve fare da autista barra guardia del corpo a questo famosissimo musicista di colore interpretato appunto da Marshall Ali che ha già vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per Moonlight è il protagonista della terza stagione di True Detective che non ho ancora iniziato a vedere ed è stato Cottonmouth in Luke Cage quindi insomma un attore che ultimamente sta emergendo mica male Adam Driver è il famoso barra famigerato Kylo Ren della nuova trilogia della sequel trilogia di Star Wars personaggio che io io sono quindi quelli che ama tantissimo Kylo Ren e Adam Driver è spettacolare il miglior attore lì dentro senza alcun dubbio Black Clansman è la storia di un poliziotto di colore che contatta il Ku Klux Klan fingendosi bianco e a un certo punto viene organizzato un incontro un poliziotto l'ho già detto sì e quindi lui deve chiamare un suo collega bianco appunto Adam Driver per fingersi lui poi Sam Elliot è il fratello di Bradley Cooper in Star is Born per darvi un ruolo era il generale Ross nel look di Ang Lee quello del 2003 per intenderci mentre Sam Rockwell in Vice fa George W. Bush ora Sam Rockwell non penso vincerà è stato bravo ma insomma l'hanno nominato perché sai fai Bush Senior fai Bush Junior quindi sai è un'interpretazione che colpisce sicuramente gli statunitensi però non penso anche perché ha già vinto l'anno scorso per tre manifeste ai B. Missouri in cui era stato molto più bravo e l'aveva meritato assolutamente se meglio anche qui bravo ma farlo vincere adesso non esageriamo io ti favo Adam Driver non ho visto Marshall Ali sembra molto bravo dai trailer però appunto ha già vinto lui diamo un Oscar ad Adam Driver che sacco di gente lo odia per Star Wars dicono che è brutto che fa cagare insomma hanno detto di tutto e di più a Kylo Ren personaggio che io adoro Adam Driver interpretazione magistrale è stato bravissimo anche qui è stato bravissimo anche in un altro film uscito quest'anno e poi ci arriveremo diciamo che io l'avrei nominato più per l'altro forse però dai già che siamo questo facciamo vincere Adam Driver io qui tifo spassionato per Adam Driver miglioratrice protagonista oddio questo lo pronuncerò malissimo Yalitza Paricio o Parisso non lo so per Roma Glenn Close per The Wife Olivia Colman per La Favorita Lady Gaga per Star is Born e Melissa McCarthy per Copia Originale ah no che ci penso forse l'ho visto il trailer di Copia Originale perché Melissa McCarthy è la Suki di Una Mamma per Amica ha lavorato spesso con Paul Feig compreso il tanto odiato Ghostbusters io sono di quelli che gli riconosce un sacco di difetti è un filmettino ma non lo odio e secondo me le ragazze le quattro attrici non erano malaccio compresa Melissa McCarthy che purtroppo però è rimasta invischiata in quel tipo di ruolo lì peccato perché è un'attrice promettente e ora diciamo che sono curioso di vederlo per vedere come è la McCarthy in questo ruolo sicuramente atipico rispetto a quelli in cui era invischiata ultimamente allora La Paricio che è quella che fa la domestica in Roma mi era piaciuta molto mi dispiace che non abbia vinto a Venezia il premio per il miglior esordio il fatto però è che Roma ha vinto il Leone d'Oro e se vinci il Leone d'Oro non puoi vincere nient'altro quindi lei purtroppo ha dovuto essere esclusa non ho visto Glenn Close in The Wife Olivia Colman ha vinto lei per l'interpretazione nella favorita e sì sono stato piuttosto contento Lady Gaga per E Star Is Born qui non penso di dovervi dire cosa fa Lady Gaga in E Star Is Born allora è dura cioè io sono un po' indeciso tra Lady Gaga e Olivia Colman ma credo che sia come pronostico nel senso di penso che vincerà sia a livello di tifo personale dico Lady Gaga perché Lady Gaga ha dalla sua una cosa che la Colman non ha che non se l'aspettava nessuno cioè siamo onesti quando io ho sentito immagino anche in modo di voi ci sarà questa storia d'amore in cui la protagonista femminile è Lady Gaga al di là di sapere o meno che c'erano stati dei film precedenti e che tra l'altro nel secondo Star Is Born a quello degli anni 50 c'era l'attrice che faceva Dorothy nel Mago di Oz quindi mica l'ultima scema insomma sapendo questa cosa senti Lady Gaga protagonista il segno della croce ce lo siamo fatti tutti dai diciamocelo e poi boom la sorpresa la cosa migliore del film bravissima vabbè il ruolo che citava anche tra virgolette se stessa però non è neanche facile fare se stessi io poi l'ho vista a Venezia quindi in originale ecco diciamo che più ancora che per la relattrice di Roma io speravo che vincesse lei il premio per il migliore esordio perché ok aveva già recitato ma mai da così con un ruolo così perponderante ma era fuori concorso a Venezia e quindi non poteva vincere niente Star Is Born comunque no dai qui per me al pari di The Shallow lei ha già l'Oscar in tasca e non posso neanche dire che non se lo sia meritato è una performance che ha stupito tutti fatta molto bene quindi sì dai forza Lady Gaga miglior attore protagonista Christian Bale per Vice appunto fra il vicepresidente degli Stati Uniti Bradley Cooper William Defoe per la sua roda di Van Gogh sulla soglia dell'eternità anche questo uscito da poco come l'avevo vista a Venezia Rami Malek per Bohemian Rhapsody e questa nomination se lo aspettavano tutti Vigo Mortensen per Green Book qui no qui l'ho visto comunque 3 su 5 allora vabbè Christian Bale no sinceramente no bravo ma già inserirlo per me è stato fargli un favore ripeto non perché sia scarso ma addirittura tra i 5 migliori attori ma dove ma dai bravissimo Bradley Cooper mi piace un sacco però proprio no in questo caso no Rami Malek appunto non l'ho visto c'è chi dice bravo un mio amico l'ha definito il Funko Pop di aiuto c'ho c'ho il vuoto di Freddie Mercury il Funko Pop di Freddie Mercury scusate mi è uscito di mente un attimo quindi poi c'è chi piace chi non piace Viggo Mortensen mi sembra bravo sicuramente un bravo attore allora delle 3 che ho visto direi che il più meritevole è Christian Bale e penso vincerà non so come sia Viggo Mortensen magari lo vado a vedere e mi ricredo ma cioè Christian Bale proprio anche i tic è perfetto sembra veramente un'altra persona lo vedi e pensi ah questo è stato Batman non ci crederesti mai Christian Bale è un trasformista un grandissimo attore ha già vinto un Oscar e questo secondo secondo me se lo meriterebbe tutto tra l'altro farebbe ridere perché se vincesse il miglior trucco come ho ipotizzato e poi il miglior attore si ripeterebbe quello che è successo appunto con l'ora più buia quindi un attore che vince l'Oscar insieme al trucco che lo rende grasso e tra l'altro Gary Oldman e Christian Bale ovvero due dei personaggi dei Batman della trilogia di Nolan per favore Morgan Freeman l'anno prossimo ingrassa anche te che ti vogliamo che ti vogliamo anche lì a vincere un Oscar o anche Tom Hardy mi va benissimo insomma qualcun altro ingrassa voglio una tripletta attore di Batman che ingrassa col trucco e vince l'Oscar per fare un personaggio storico miglior regia Spike Lee il cagacazzi Spike Lee quello che ha rotto i coglioni con gli Oscars so white ma vossa di Morinopro vossa di Morinopro insomma che due palle comunque Spike Lee per Black Clansman Pavel Pavlikowski per Cold War appunto devo vedere Yorgos Lantimos per la favorita si capisce per chi tifo Alfosso Cuaron per Roma e Adam McKay per Vice io spererei Yorgos Lantimos tra l'altro come è stato fatto notare da un bel po' di anni che vince quasi sempre la regia un non statunitense Guillermo del Toro Cuaron in arrito quindi tre messicani aveva vinto Ang Lee per vita di P che appunto è un orientale non mi ricordo cinese credo se ho sbagliato mi scuso quindi insomma è un bel po' che effettivamente gli americani sembrano guardare ad altri paesi per la miglior regia appunto Spike Lee che era un peccazzo per gli attori però intanto la regia premiano sempre altri ed è curioso che una manifestazione che comunque debba celebrare l'industria hollywoodiana finisca comunque per riconoscere l'operato di attori non statunitensi scusatemi di registi non statunitensi questa è una cosa che a me interessa molto comunque spero Yorgos Lantimos ha fatto il bellissimo Il sacrificio del cervo sacro uno dei tre film usciti quest'anno cioè l'anno scorso che ho preferito ha fatto The Lobster che è bellissimo anche quello la favorita io l'ho adorato dai facciamo vincere Yorgos Lantimos poi per chi ha visto per chi vedrà la favorita è un film che gioca molto ad esempio con i Grandanguri per dare un effetto particolare poi un film appunto con dei momenti grotteschi volutamente che non suonano mai ridicoli quindi insomma dai secondo me se la meriterebbe davvero bisogna dire però che pure Roma insomma a livello di regia non è niente male Quarone ha già vinto però beh hanno premiato Inarito due volte di fila quindi perché non potrebbero fare allora secondo me se la contenderanno appunto la favorita e Roma io tifo per la favorita ma non mi stupirei se lo dessero a Roma tornando brevemente su Spike Lee e poi passiamo al miglior film come ho detto altre volte cioè lui in realtà è uno che fa anche dei film che mi sono piaciuti tanto la venticiquesima ora fa la cosa giusta Malcom X ve li consiglio anche Black Clansman cacchio a me è piaciuto moltissimo l'ho anche messo tra i migliori dell'anno scorso però la cosa che a me fa innervosire è che soprattutto in fa la cosa giusta e Malcom X lui mostrava in una maniera veramente fatta bene e intelligente come il razzismo sia di chiunque faccia vedere che anche i neri potevano discriminare i bianchi dare per scontato che i bianchi fossero stronzi quando ciò non era necessariamente vero Malcom X che è l'ispirazione per Magneto no Magneto è una dimostrazione che i mutanti sono discriminati ma anche i mutanti possono essere stronzi e reagire male alle discriminazioni Malcom X è uguale poi vedremo nel film si vede anche il cammino di Malcom X e tutto insomma non viene trattato assolutamente male in fa la cosa giusta e idem ci sono addirittura i neri che si odiano tra di loro fin così intelligenti e poi nella vita vera caga il cazzo con gli Oscar So White ma porca vacca a me fa incazzare Spike Lee è un ipocrita merdoso e poi fa film bellissimi porca di quella vacca miglior film e qui ci si diverte quest'anno abbiamo otto candidati perché le nomination vanno da un minimo di 5 a un massimo di 10 per il miglior film non mi ricordo mi pare che tipo devi superare una certa quota di voti per poter entrare in nomination e abbiamo Black Clansman del caga cazzi che ho appena detto Bohemian Rhapsody La Favorita Green Book Roma e Star is Born Vice l'Uomo nell'Ombra e ottavo nominato che dovevo dire per primo ma l'ho lasciato l'ultima apposta Black Panther signore e signori la pietra dello scandalo che io me lo ricordo lui che mentre scrivano le nomination e vedevo che nominavano spesso Black Panther e prima i tecnici pensavo ripensando anche che avevano candidato ai Golden Globe parentesi ma ti sembra un film drammatico Black Panther perché metterlo lì ma sinceramente sono cazzate le categorie dei Golden Globe miglior film drammatico e miglior commedia tra l'altro commedia musicale quindi Sweeney Todd Sweeney Todd che è un musical o anche Le Miserable il film la versione con Hugh Jackman ed è nata qualche anno fa da regista del discorso del re quei musical potrebbero essere candidati nella stessa candidatura nella stessa categoria in cui potrebbe essere candidato un retipresento Sally per dire ma stiamo schrettando sono veramente categorie di merda quindi lì non era questione perché hanno candidato Black Panther perché fanno categorie così di merda dico io ma a parte questo Black Panther candidato anche il miglior film perché io appunto mentre screvo pensavo cazzo pensa se no a Milano Black Panther quanto si incazza la gente blu avrei tantissimo appena dicono Black Panther sono lì la parte più cinica stronta di me si è scaterata in quel momento mamma mia l'indignazione che ci aspetta ed effettivamente c'è stata la caterva di merda che è scesa per questa cosa mamma mia mamma mia è struttissimo che sia così contento perché la gente è cazzata ma non ci posso fare niente c'è chi ha detto ma perché non hanno candidato Forstman io l'ho detto bello ma cioè allora era il film d'apertura a Venezia il secondo film che ho visto durante il festival quindi avevo ancora la mente bella fresca me lo dovevo ricordare tranquillamente sparito in mezzo a tutti gli altri aggiungiamo già per dire il film d'apertura dell'anno scorso che anche lì era stato il secondo che avevo visto era stato downsizing film con i primi 30-40 minuti molto belli che poi sfocia diventa più brutto andando avanti un vero peccato però cacchio quello me lo ricordo ancora a distanza di un anno e passa qui sono passati quanto? 3-4 mesi e Forstman me lo ricordo a malapena quindi insomma non gli fa molto onore questa cosa proprio per carità una colla soggettiva però già capirete che facendo anche solo il confronto non è necessariamente un film che finisce nella memoria poi non se n'è parlato per nulla cioè di La La Land se n'è parlato un sacco parlando del film precedente di Damien Chazero anche di Whiplash nella sua nicchia se ne parlava qui veramente non se lo caga nessuno stiamo parlando insomma di un film su Neil Armstrong la cosa di cui si è parlato di più è stato per la bandiera americana che c'era e non c'era quindi insomma secondo me la nomination non gliela dovevano dare poi come ho detto Damien Chazero nei due film precedenti ti aveva mostrato che per l'arto comunque per raggiungere un sogno ti dovevi sacrificare qui c'è ma non con quella potenza perché la perdita maggiore che ha il personaggio di Neil Armstrong nel film non è collegato al suo sogno di andare sulla luna gli sarebbe successo a prescindere e ma era così nella vita vera ok però scenicamente perde molto secondo me con questa cosa quindi no io Forstman non l'avrei nominato altra peta dello scandalo Suspiria che effettivamente sorprende come guadagnino che l'anno scorso sembrava sulla cresta dell'onda con chiamami col tuo nome e quindi infatti oggi dai Suspiria il regista amato vedrai riuscirà ad avere successo a Venezia non lo cagano agli Oscar non lo cagano il film fa flop complimentoni ma vede diciamocelo qui è colpa di Hollywood che ti mastica e ti sputa davvero ragazzi state tranquilli Suspiria non è stato nominato a niente ci pensa il vostro amico Travatar 91 a rimediare e infatti l'Oscar speciale di Travatar 91 va a Suspiria per il miglior inserimento a cazzo di cane in un horror di una tematica che con quel film non c'entra assolutamente niente un applauso a guadagnino per il suo infilare il nazismo a cazzo di cane in un film che parla di streghe in una scuola di danza applausoni applausoni parlando appunto di Black Panther prima di dire che le mie opinioni sui vincito cioè su chi potrebbe vincere il miglior film innanzitutto concedetemi una fanboiata iper mega gratuita e la DC muta perché la Marvel si fa nominare agli Oscar al miglior film prima della DC poteva essere nominata la DC ai tempi del Cavagliere Oscuro ma i cinecomic non erano ancora così sulla bocca di tutti come adesso se fosse uscito adesso probabilmente il Cavagliere Oscuro avrebbe avuto più possibilità rispetto a Black Panther si è scatenato con Black Panther appunto il classico putiferio ma per la tematica è tutto allora come film in sessi non l'avrei nominato l'ho messo tra le menzioni speciali dei migliori dell'anno però appunto menzioni speciali perché gli effetti visivi scene d'azione non perfette e storie d'amore che non ci crede nessuno insomma non mi hanno fatto dire oh mio dio film perfetto ho trovato certe critiche veramente assurde cioè c'è chi ancora c'è chi si lamenta tipo dicendo ma questa vi pare una società realistica no non è realistica perché non esiste cioè queste quitte immagini che sono dei tizi che hanno un meteorite con dentro un metallo quasi magico è ovvio che non è una cosa realistica cioè è roba inventata grazie a sta ceppa vi pare che in una società così avanzata si elegga ancora il re con un duello ma capita che nella fantascienza ci siano società avanzate con usanze barbare comunque scusatemi noi oggi non ci lamentiamo dicendo nel 2018 facciamo ancora cose degne del medioevo te l'ho mostrato cioè noi sì loro no mi sembra un po' strano un po' ipocrita come cosa poi solito è un film che parla solo di Black Power infatti i neri sono dipinti come buoni infallibili no c'è Black Panther che dà dei coglioni a tutti i suoi antenati per le porcate che hanno fatto e allora per questo è un film nazista perché rappresenta i neri come stronzi e allora decidetevi porca puttana cioè basta io sta cosa di cioè bello che dicono l'Academy deve smettere di guardare solo al colore della pelle che è più o meno quello che fanno tutti quelli che giudicano Black Panther in bene o in male lo giudicano solo per quello cioè forse dobbiamo farci prima un esame di coscienza noi prima di rompere i coglioni a quelli di Black Panther comunque secondo me la questione non è tanto la tematica razziale si è contribuito ma pensateci bene è una tematica applicata a un blockbasterone cosa a cui di solito uno non è abituato quindi hanno voluto anche tipo dire oh voi che fate film blockbasterone di intrattenimento guardate che se fate tematiche importanti noi siamo anche disposti ad accogliervi nella rosa dell'Academy ovviamente appunto c'era in ballo anche non solo però anche la tematica razziale quindi lì è già vincere facile vedi Get Out l'anno scorso in parte anche la forma dell'acqua sebbene lì non si parlasse solo discriminazione sui neri è ok ma soprattutto Black Panther è probabilmente anzi no è sicuramente il blockbuster forse il film no ma il blockbuster più anti-Trump che esista cioè Black Panther è un film la cui morale è gli stati non devono isolarsi bisogna aprirsi al mondo bisogna aiutare gli altri paesi non bisogna restare chiusi culturalmente in un paese in cui c'è un presidente che vuole fare il muro col Messico cioè questa cosa qui è fortissima io mi ero chiesto un paio di anni fa prendendo come esempio 12 anni schiavo che vinceva su The Wap of Wall Street e Gravity che erano due film molto più belli se fosse giusto candidare un film solo appunto per le tematiche secondo me parlando anche appunto di un'opinione maturata nel giro di due anni quindi magari se vedete quel video sentite cose diverse è semplicemente perché ho cambiato idea nel senso che il problema di 12 anni schiavo numero uno è che ha vinto e questo non vince ve lo dico e tra un attimo vi spiego perché numero due cioè qui comunque la tematica è rappresentata in maniera diversa perché di solito in un film del genere tu ti immagini un paese ricco popolato da bianchi che esclude o i messicani o gli africani eccetera eccetera qui no quindi fa vedere che la prospettiva può anche essere al contrario un paese ricco indipendentemente dal colore della pelle tende a escludere gli altri paesi le altre persone ad avere paura di loro e invece qui ti incoraggia ad aprirsi appunto al mondo e questa secondo me è una cosa molto molto importante che non va assolutamente sottovalutata in più a tutti quelli che dicono ah black power black power in realtà paradossalmente il personaggio che a me stava più simpatico era quello di Everett Ross che era uno dei pochi l'unico bianco insieme al cattivo Andy Serkis tra l'altro anche lì c'è black panther che fa squadra con Everett Ross quindi il nero col bianco e allo stesso tempo c'è killmonger che fa squadra con Andy Serkis però lo ammazzano quindi il razzista il killmonger è un film con una tematica politica molto più interessante di 12 anni schiavo 12 anni schiavo è il classico noi poveri neri siamo stati tormentati dai bianchi che è vero assolutamente ma viene fatto in una maniera così moralista iper vittimistica che ti fa quasi dare ragioni ai persecutori ed è bruttissimo invece black panther questa retorica la evita dio grazie si era dato black panther da questo punto di vista comunque black panther rimane migliore per restare in tema di film nominati appunto e comunque a livello di quota nera appunto c'erano anche black panther e green book quindi non era solo la tematica razziale perché se era solo per quella non avevi già altri due comunque black panther non vincerà perché non è candidato a nessuna delle categorie più importanti a parte miglior film non è candidato a miglior regia non è candidato a nessuno degli attori giustamente perché bravi ma nessuno eccezionale non è candidato alla miglior sceneggiatura quindi no non può vincere un po' come Selma che fu candidato a miglior film senza essere candidato a nessuna di queste candidature e poi fu anche peggio perché Selma l'ha stata per la libertà storia della marcia a Selma appunto di Martin Luther King aveva avuto oltre al miglior film solo miglior canzone e tu comunque nomini di miglior film almeno questo si è beccato altre sei nomination tecniche quindi insomma ha già più senso qui sinceramente allora chi può vincere questa è dura allora Roma è candidato a miglior film per questo ha già bello che è servito miglior film straniero cioè se gli riconosci il miglior film allora nel momento in cui lo scala miglior film straniero li ha già vinto e questo è ciò che potrebbe scluderlo dalla vittoria vera e propria perché se già gli fai vincere miglior film straniero poi gli fai vincere anche miglior film due premi non è mai successo tipo Amur di Aneke miglior film straniero ma non miglior film seppure fosse candidato Ah poi Toy Story 3 miglior film d'animazione vinsero candidati anche miglior film non vinsero quindi insomma questo mi fa dire no non si ripeterà quello che è successo l'anno scorso in cui il milione d'oro a Venezia vince anche l'Oscar cosa che tra l'altro fu la prima volta l'anno scorso con la forma dell'acqua però se succedesse sarebbe molto interessante sinceramente entrerebbe nella storia Roma da quel punto di vista quindi vediamo e Starius Borman anche se cioè no non vincere mai e tra l'altro come qualcuno ha fatto notare ok Black Panther non se lo meritava e Starius Borman si bel film mi è piaciuto ho anche accompagnato mia madre a vederlo perché lei era curiosa e per carità è stata sicuramente una visione piacevole ma miglior film ma per favore tra l'altro non ha neanche appunto la tematica originale che ho spiegato prima di Black Panther quindi paradossalmente Black Panther ha più diritto di Starius Borman di essere qui però probabilmente in Black Panther ci sono i neri è un cinecomic e quindi giù a sparare merda solo su Black Panther andiamo avanti così e combattiamoli così i pregiudizi Bohemia Rhapsody che comunque sai Queen film appunto ispirato di Queen poi c'è il tema dei lights magari chi si infila non so tra questi direi che per tifo personale direi la favorita anche appunto per soddisfazione nei confronti di Lantimos ma è veramente difficile comunque c'è anche Vice che parla di un vicepresidente quindi una figura storica c'è appunto in mezzo buscia poi sai come un film contro i repubblicani che vince durante la presidenza di Trump sarebbe un messaggio forte Black Classman anche lì comunque si vede Trump alla fine in un'immagine di repertorio pur essendo ambientato prevalentemente negli anni 70 boh non lo so veramente non ho la più palida idea di chi potrebbe vincere chi vorrei vincesse l'ho detto la favorita ma chi potrebbe vincere è veramente un terno all'otto ditemi secondo voi chi tra questi otto potrebbe vincere e no non dite Black Panther perché non vince ve lo dico subito per i motivi che vi ho detto prima col cacchio che riuscirà mai a vincere direi che a questo punto ah vabbè qualche parolina su alcuni che si lamentano degli esclusi Tony Collette per Hereditary che devo ricordarmi chi interpretava Tony Collette in Hereditary tra l'altro horror cioè non mi nomini Suspira vuoi che mi nominino Tony Collette per Hereditary sia o che era la madre ok brava però non lo so no vabbè mi tengo quelle vabbè niente Ryan Coogler me l'aspettavo allora dicono stupisce l'assenza di Emily Blunt per A Quiet Place e Il Ritorno di Mary Poppins per Il Ritorno di Mary Poppins no non mi stupisce mi spiace Emily Blunt a me piace ma dai dai comunque vediamo un po' boh ma sinceramente vedendo le altre attrici protagoniste beh non ne ho viste due su cinque però sinceramente mi sembravano comunque più brave di lei Olivia Colman Lady Gaga anche Yalissa a Paricio a Pariso mi spiace per la pronuncia di merda cioè secondo me erano tutte più brave quindi non mi stupisce affatto che abbiano escluso Emily Blunt molto sinceramente quindi boh non ho parlato dei Razzi Award perché non ho visto praticamente quasi niente ho visto un sacco di merda l'anno scorso ma niente di candidati ai Razzi Award che culo hanno candidato in un paio di categorie Jurassic World però avevo visto solo quello come cazzo faccio a parlarne vabbè quindi no non dirò niente dei Razzi Award tra parentesi ho visto Glass sti giorni vedrò di recensirlo e arriverà con un po' di ritardo quel video mi dispiace e detto questo direi che ho spruocchetto anche troppo sto video mi verrà lunghissimo e comunque finisce qui grazie per tutti coloro che avevano retto fino a sto punto se il video miracolosamente vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete la notte degli Oscar sarà il 24 io non faccio le live degli Oscar perché li vedo sempre con amici e non posso snobarli per fare live vi voglio bene ragazzi però gli amici più stretti sono amici più stretti e quindi comunque niente ci sarà comunque il video di commento state tranquilli ci vediamo appunto vi saluto e ci vedremo in generale ad un prossimo video ciao ciao ragazzi